E' rimasto così poco. I caduti si stanno portando via tutto. E' una fortuna aver trovato questa nave. Anche perché una guardiana senza nave non può fare molto per proteggere la città. Ci serve un propulsore per lasciare la Terra, però. E quel cosmodromo è l'unico posto in cui potremmo trovarne uno. Abbiamo battuto i caduti una volta. Possiamo rifarlo. Hanno abbattuto la nave di un guardiano. Se non l'hanno già vista i caduti, allora potremmo recuperarne alcune parti. Oh no. Grazie a tutti. L'avionica è quasi andata, ma posso recuperare le ultime trasmissioni. Hanno ripristinato un centro informazioni nella galleria qui sotto. Diamogli un'occhiata. Diamogli un'occhiata. Diamogli un'occhiata. Diamogli un'occhiata. Diamogli un'occhiata. Diamogli un'occhiata. Non ci serve altro che un propulsore. Poi potremo fare il salto verso altri luci. Non tutti, ma quasi. Torniamo indietro, dove troviamo la nave. È la nostra unica possibilità. Grazie a tutti. 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 Tu hai appena ucciso un arconte. E' un duro colpo per la luna. E abbiamo anche un propulsore. Ora possiamo pensare alla luna. Andiamo dall'oratore.